A ottobre è nata Giovanna e tutti dicono che somiglia a me spiaccicata a piccino. Adesso grazie al diploma lavoro all'aggiornatissimo computer dell'ufficio commerciale dove mi collego anche a internet e una sera di queste mi sono imbattuto in un sito di un tale Tommy Palladini da Boston. Offre mostre di cataloghi online, bootleg di concerti, mappe della Boston alternativa. Mi sa che uno di questi giorni gli mando una mail. E tutte le mattine, prima di accompagnare Giovanna al nido e di andare a lavorare in ospedale, Susi mi accompagna al lavoro e tutte le mattine, o che piove o che ci sia il sole, lei mi dice sempre la stessa identica cosa, sei sempre più bello. Ed io vado a lavorare contento, chi lo sa, forse mi sarò rincorbellito del tutto o forse sono felice, a parte quella sensazione di ovo sodo che non va né in su né in giù, ma che ormai mi tiene compagnia come un vecchio amico.